pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati concludiamo quest'oggi il discorso da dio di gesù nella prospettiva di marco che ha a che fare con il ritorno di gesù e con il modo di vivere bene questo nostro tempo nelle parole di oggi sottolinea chiaramente il giorno della sua venuta dice infatti in quei giorni dopo quella tribolazione il sole si oscurerà la luna non darà più il suo splendore gli astri si metteranno a cadere e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte pensate tutto ciò che per noi è saldo solido i nostri punti di riferimento tutto verrà meno in quello sconvolgimento vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria ed egli cosa farà manderà i suoi angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti e un messaggio di consolazione il signore ci dice quando verrà la fine nello sconvolgimento totale tranquilli io li arriverò e vi riunirò tutti con me capite noi aspettiamo la fine che potremmo dire anche il fine del creato come qualcosa di bello noi non viviamo sotto la minaccia di una catastrofe dalla quale non ci salviamo noi attendiamo il ritorno del signore gesù nella gloria d'altronde il nostro incontro con lui di certo sarà nell'ora di sorella morte quindi potremmo dire che noi attendiamo la nostra fine della vita così come la fine dei tempi come qualcosa di bello nel senso l'incontro con l'amore che chiama vedete i santi perché hanno vissuto con serenità la morte perché avevano coltivato l'amicizia con il signore coltivando la relazione con lui dio non era più un emerito sconosciuto e la morte per quanto nella sua realtà fisica possa un attimino spiazzare spaventare nella sua profonda realtà noi sappiamo che è l'incontro con l'amore che viene a chiamarci ricordare che c'è una fine e che abbiamo una fine ci rende un grande servizio perché in fondo ci aiuta a ricalibrare un po le nostre scelte a rivedere un po la nostra vita e ci aiuta a porci una domanda molto seria cosa vale davvero su cosa sto puntando la mia vita questa cosa che sto facendo è davvero così importante questa cosa a cui sto dando così tanta importanza è veramente così necessaria i padri antichi consigliavano di provare a vivere un giorno come se fosse l'ultimo della nostra vita terrena sarebbe un bel esercizio miei cari chissà come lo vivremmo se oggi fosse il mio ultimo giorno di vita cosa farei a cosa darei la priorità come tratterei chi ho accanto come farei il mio dovere quotidiano successivamente il signore ci invita ad imparare dal fico quando vediamo che iniziano a spuntare le prime foglioline capiamo che l'estate è vicina così dice il signore quando vedrete accadere queste cose catastrofi persecuzioni carestie di tutto e di più sappiate che egli è vicino è alle porte in verità vi dico non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute tenete conto che davvero accaduto così infatti il tempio era stato distrutto più o meno negli anni in cui marco scritto il vangelo siamo nel 66 dopo cristo erano scoppiate guerre pensate la guerra giudaica la persecuzione contro i cristiani vi erano carestie insomma di tutto e di più ma l'invito del signore qual è anche per noi è sapere che in mezzo alle distruzioni alle cose difficili il signore è comunque vicino noi tante volte pensiamo che quando arrivano le difficoltà e le prove il signore non ci sia il signore ci abbandoni il signore non ci ascolti non è così lui ci viene incontro ci viene a salvare proprio in mezzo a quelle situazioni e questo da gioia sapere che tanto più la croce si fa pesante tanto più lui è lì con me per sostenerla con me e in me e allora gesù ci ricorda il cielo la terra passeranno ma le mie parole non passeranno tutto passa solo le parole di gesù restano solo ciò che abbiamo vissuto in comunione con gesù resta solo l'amore che abbiamo dunque comunicato resta quello è l'unico tesoro che possiamo accumulare qui e portare in cielo quante volte lasciamo sfuggire occasioni per fare del bene dicendo ma sì un'altra volta quante volte mettiamo da parte le cose realmente importanti facendoci prendere da mille cose più o meno banali tenere conto che il tempo è un dono meraviglioso e che non torneranno più le occasioni che abbiamo ci potrebbe aiutare a vivere meglio il nostro quotidiano a tal proposito mi viene in mente una storiella un uomo benestante molto egoista che inventivamente chiamiamo edo fece un sogno rincasando avvistò da lontano un uomo che con una cassa sulle spalle usciva da casa sua caricava questa cassa su un camion pieno di altre casse e partiva edo lo inseguì quest'uomo ad un certo punto fermò il camion scese prese la cassa e la scaraventò giù da un precipizio edo gli corse incontro arrabbiato gli disse ma che stai facendo cos'è quella cassa cosa c'è dentro e cosa c'è dentro tutte queste casse è roba mia quell'uomo gli sorrise e gli disse vuoi sapere cosa c'è dentro vai aprile edo salì e iniziò ad aprire le casse una ad una aprì la prima e sorpresa all'interno vi era una scena suo fratello gravemente ammalato che cercava di contattarlo dal letto dell'ospedale ma lui non era mai andato a trovarlo perché troppo preso dal suo lavoro ne aprì un'altra e vide e vide i suoi figli tristi perché perché il padre era sempre impegnato e vedeva se mentre buttava ore e ore tra social e videogiochi e ne aprì un'altra ancora e vide un povero vicino al quale passava ogni giorno che non degnava nemmeno di uno sguardo ritorno dall'autista del camion senza parole sbigottito e quell'uomo disse a edo ora hai capito cosa sono queste casse sono tutti i tuoi giorni perduti e tutto il tempo che hai buttato edo allora gli disse ti prego lascia che porti via qualche cassa lascia che prenda almeno queste due tre io sono ricco le darò tutto quello che vuole lo scaricatore fece un gesto con la mano destra come per dire troppo tardi e svanì edo si svegliò di soprassalto capendo profondamente il senso di questo sogno chissà che non possa aiutare anche ciascuno di noi chiediamo dunque al signore la grazia che possiamo davvero essere svegli attenti a ciò che vale di essere persone che coltivano l'amicizia con dio il contatto con sé l'amore verso gli altri di vivere con impegno il nostro quotidiano ricordando miei cari che non è ciò che facciamo che ci dà valore ma è l'amore che mettiamo in ciò che facciamo che è capace di trasfigurare tutto se saremo svegli uniti a dio vivendo bene il nostro quotidiano non abbiamo da temere saremo sempre pronti a riconoscere gesù che passa nel nostro quotidiano e saremo pronti a raccoglierlo con gioia e a lasciarci da lui accogliere nell'ora di sorella morte o quando lui ritornerà che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti grazie a tutti Grazie.